si sente parlare di sostenibilità di cambiamento climatico di transizione ecologica tutti i paroloni che nascondono che cosa l'europa l'italia vogliono che le aziende diventino green vogliono che le aziende facciano una transizione ecologica che cosa vuol dire transizione ecologica cosa devono fare le aziende per continuare a essere competitive per continuare a posizionarsi ai vertici del mercato nei prossimi decenni te lo spieghiamo nel corso carbon manager